con questo tutorial parliamo della divisione tra monomi allora vediamo come poter agire come abbiamo visto nei tutorial precedenti dobbiamo sempre guardare prima il segno dopo i numeri ed infine le lettere bisogna essere attenti nel caso della divisione allora vediamo questo primo esempio qui c'è un meno qui c'è un più quindi sicuramente meno per più farà meno e scriverò meno poi devo fare tre mezzi diviso un mezzo allora all'inizio potrebbe essere il caso mettersi di lato e riscrivere tre mezzi diviso un mezzo ma scrivere tre mezzi diviso un mezzo vuol dire scrivere è proprio equivalente a scrivere tre mezzi per due allora posso semplificare due due e vado a mettere tre come coefficiente della divisione e scriverò tre devo mettere qui soltanto i numeri non posso mettere le lettere perché altrimenti mi verrebbe alla seconda b a denominatore il che non sarebbe più un monomio per quanto riguarda invece la parte letterale è sufficiente fare la sottrazione degli esponenti allora alla terza diviso alla seconda faccio tre meno due che è uno e allora scriverò a alla uno e quindi scrivo a poi b alla seconda diviso b farò due meno uno che è uno e scriverò b poi qui non c'è c e allora vuol dire che questa c la vado soltanto a ricopiare la divisione è possibile sempre nel caso in cui gli esponenti del primo termine devono essere maggiori del secondo termine ad esempio se qui fosse stato scritto ad esempio se qui ci fosse stato scritto 7 non potevo fare 3 meno 7 perché mi sarebbe venuto un numero negativo e un monomio deve avere invece un esponente sempre maggiore o uguale a 0 allora meno 3 abc è il risultato di questa divisione poi ricopio abc ed ottengo meno 3 abc più abc meno 2 abc ora vediamo quest'altro esercizio allora qui la prima cosa che bisogna fare elevare tutta questa quantità alla seconda e poi elevare alla sesta io dovrei scrivere quindi 2 alla seconda e inizio 2 alla seconda x alla quarta y alla sesta tutto quanto alla sesta in questa maniera ho sviluppato la prima potenza e poi il 6 l'ho ricopiato diviso un quarto x alla seconda y alla terza diviso qui inizia a sviluppare la potenza allora meno alla 12 fa più e quindi non riscrivo nulla 2 alla 12 x alla 12 y alla 12 conviene lasciare proprio 2 alla dodicesima e non fare i calcoli ora rinizio 2 alla seconda alla sesta diventa 2 alla dodicesima poi x 4 per 6 fa 24 y alla trentaseiesima perché ho fatto 6 per 6 diviso un quarto x 2 y 3 tutto quanto diviso 2 alla dodicesima x alla dodicesima y alla dodicesima a questo punto inizio a fare la divisione devo fare 2 alla 12 diviso un quarto mi metto di lato e vedo quello che esce allora 2 alla 12 diviso un quarto vuol dire scrivere 2 alla 12 per 4 ma siccome che 4 è uguale a 2 alla seconda conviene utilizzare le proprietà delle potenze cioè scrivere 4 come 2 alla seconda e ottenere quindi 2 alla quattordicesima e quindi ottengo 2 alla 12 diviso un quarto è 2 alla 14 e quindi vado a scrivere 2 alla 14 poi x alla 24 diviso x alla 2 fa x alla 22 e poi y 36 meno 3 fa 33 tutto quanto diviso quanto diviso 2 alla 12 x alla 12 y alla 12 ed infine ottengo 2 alla 14 diviso 2 alla 12 è 2 alla 2 ossia 4 poi ho x alla 22 diviso x alla 12 quindi faccio 22 meno 12 cioè 10 e quindi scrivo x alla 10 e poi y ho 33 e ho 33 e 12 quindi faccio 33 meno 12 ed ottengo 21 quindi y alla 21 vediamo questi altri due esercizi allora la prima cosa che faccio qui è elevare alla seconda e allora vado a riscrivere 10 a 6 b 6 diviso meno alla seconda meno alla seconda fa più quindi non scrivo niente 4 alla seconda 16 a alla seconda b alla seconda diviso 5 alla quarta b alla quarta ora c'è un diviso e un meno ora questo segno meno conviene scriverlo qui di fronte e allora lo scrivo qui meno diviso 4 a alla seconda b alla terza tutto quanto alla seconda adesso devo fare 10 diviso 16 se mi metto di lato e scrivo 10 diviso 16 vuol dire scrivere 10 fratto 16 che semplificato per 2 diventa 5 ottavi e allora andrò a scrivere 5 ottavi e poi faccio la divisione a alla sesta diviso a alla seconda 6 meno 2 fa 4 e scrivo 4 b alla quarta proprio perché ho fatto 6 meno 2 diviso apro la quadra e faccio questa divisione allora vado a scrivere subito meno 5 quarti perché ho fatto meno 5 diviso 4 e quindi ottengo meno 5 quarti alla quarta diviso alla seconda fa a alla seconda b perché ho fatto 4 meno 3 cioè 1 tutto quanto alla seconda uguale 5 ottavi a alla quarta b alla quarta ora diviso meno alla seconda fa più e allora non riscriverò nulla 25 sedicesimi a alla quarta b alla seconda ora devo fare quest'ultima operazione e andrò a fare 5 ottavi diviso 25 sedicesimi mi metto di lato 5 ottavi diviso 25 sedicesimi vuol dire scrivere 5 ottavi 5 ottavi 5 ottavi per 16 venticinquesimi e posso semplificare quindi 5 diviso 5 fa 1 e qui ottengo 5 8 diviso 8 fa 1 e 16 diviso 8 fa 2 e allora ottengo come numero due quinti e vado a scrivere due quinti ed ora vediamo le lettere a alla quarta diviso 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 b alla seconda 4 meno 2 fa 2 e ottengo quindi b alla seconda e termino l'esercizio vediamo quest'altro allora la prima cosa che faccio è sviluppare queste potenze 1 e 2 allora meno alla seconda fa più e scriverò un nono a alla quarta b alla seconda x alla seconda per 3 alla terza fa 27 a alla terza x alla terza tutto quanto per 6b diviso sviluppo questa potenza men alla seconda fa più e ottengo 9 quarti a alla seconda x alla seconda per apro la tonda meno al cubo quindi è meno per meno per meno cioè meno 2 alla terza 8 a alla terza b alla terza ora facciamo questa moltiplicazione 9 diviso 9 fa 1 27 diviso 9 fa 3 ed ottengo 3 a alla settima b alla seconda x alla quinta perché ho fatto 4 più 3 fa 7 questo b alla seconda l'ho ricopiato 2 più 3 fa 5 per 6b diviso apro apro la quadra e vediamo allora devo fare 9 quarti per meno 8 4 semplifico 8 semplifico per 4 e ottengo 2 e allora ottengo meno 2 per 9 meno 18 a alla quinta x alla seconda b alla terza b alla terza uguale faccio questa moltiplicazione 3 per 6 18 a alla settima b alla terza x alla quinta diviso meno 18 a alla quinta x alla seconda b alla terza allora la prima cosa che faccio è sistemare il segno qui è più qui è meno ed otterrò meno 18 diviso 18 fa 1 e per ora non scrivo nulla e poi passo alle lettere alla settima diviso alla quinta a alla seconda poi ho b alla terza diviso b alla terza quindi verrebbe 3 meno 3 0 e b alla 0 fa 1 quindi non scrivo nulla e infine x alla terza perché ho fatto 5 meno 2 3 e allora scriverò x alla terza qui conviene fare un'osservazione essendoci un diviso e un meno le parentesi sono necessarie e il risultato è proprio meno alla seconda x alla terza risolviamo questo esercizio sviluppando prima tutte le potenze allora vado a scrivere meno 4 b alla quarta x alla sesta diviso un sedicesimo b alla quarta x alla quarta chiudo tonda e chiudo quadra questa quantità l'ho ottenuta facendo 2 per 2 4 3 per 2 fa 6 poi meno la seconda fa più un quarto alla seconda viene un sedicesimo e poi di nuovo 2 per 2 4 2 per 2 4 diviso 16 x alla seconda qui ho una quantità elevata alla 0 quindi meno 5 alla 0 fa 1 1 alla 3 fa 1 e allora rimane solo 3 e vado a scrivere più 3 uguale ora devo fare questa divisione allora devo fare meno 4 diviso un sedicesimo mi metto di lato meno 4 diviso un sedicesimo vuol dire scrivere meno 4 per 16 cioè meno 64 e allora andrò a scrivere meno 64 ora vediamo le lettere b alla quarta diviso b alla quarta viene 1 perché viene 4 meno 4 0 b alla 0 1 e non scrivo nulla x alla sesta diviso x alla quarta ottengo x alla seconda diviso 16 x alla seconda più 3 ora meno 64 diviso 16 è meno 4 x alla seconda diviso x alla seconda fa 1 quindi non scrivo niente e poi ricopio il più 3 e alla fine meno 4 più 3 uguale meno 1 che è la soluzione di questo esercizio vediamo quest'altro allora faccio la moltiplicazione di questi due monomi ottenendo 5 x alla quarta y alla quarta diviso qui sviluppo questa potenza quindi meno la seconda fa più x alla seconda y alla seconda tutto quanto alla seconda diviso 25 x alla seconda y alla quarta più x alla seconda meno apro parentesi attenzione a non commettere l'errore di fare meno per meno perché qui essendoci un quadrato devo prima sviluppare quindi meno alla seconda fa più e non scrivo nulla 2 alla seconda fa 4 x alla seconda ora facciamo questa divisione ed ottengo 5 x alla seconda y alla seconda tutto quanto alla seconda cioè ho preso e ho ricopiato questo 2 diviso 25 x alla seconda y alla quarta più x alla seconda meno 4 x alla seconda ed ottengo 25 x alla quarta y alla quarta diviso 25 x 2 y 4 e poi faccio x alla seconda meno 4 x alla seconda viene meno 3 x alla seconda ed infine 25 diviso 25 25 fa 1 x alla quarta diviso x alla seconda fa x alla seconda e poi y alla quarta diviso y alla quarta fa 1 e non scrivo nulla e vado a ricopiare meno 3 x quadro ed infine x alla seconda meno 3 x alla seconda è uguale a meno 2 x alla seconda ed è il risultato di questo esercizio risolviamo questi ultimi due esercizi allora meno alla quinta fa meno 3 alla quinta m alla decima diviso a protonda meno alla terza fa meno ed ora devo scrivere 9 alla terza non vorrei utilizzare la calcolatrice allora osservo questo 9 alla terza lo posso scrivere come 3 alla seconda perché 3 alla seconda è 9 tutto quanto alla e allora basta fare 2 x 3 6 ed ottenere 3 alla sesta quindi 9 alla terza vado a scrivere 3 alla sesta m alla sesta meno m alla dodicesima n alla quarta perché ho fatto 3 x 4 12 e poi n alla quarta diviso meno alla quarta fa più e quindi non scrivo nulla m alla quarta m alla quarta poi più meno alla seconda fa più e quindi non scrivo nulla 2 alla seconda 4 m alla quarta ora rinizio devo fare 3 alla quinta diviso meno 3 alla quinta diviso meno 3 alla sesta quindi meno per meno fa più poi 3 alla quinta e mi metto di lato diviso 3 alla sesta vuol dire 5 meno 6 meno 1 cioè 3 alla meno 1 ossia un terzo e allora andrò 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 nulla più 4m alla quarta ed ottengo un terzo m alla quarta più 3m alla quarta ora i due monomi sono simili faccio il minimo comune multiplo ed ottengo 1 più 9m alla quarta ossia 10 terzi m alla quarta risolviamo quest'ultimo esercizio allora sviluppo subito questo cubo ed ottengo meno al cubo meno 2 alla terza 8 3 alla terza 27 a alla sesta b alla terza diviso un nono a alla seconda b alla seconda meno meno 4 alla terza b alla terza diviso meno b alla seconda fa b alla seconda tutto quanto alla seconda diviso meno b che moltiplica meno 2a alla seconda farà 4a alla seconda ora devo fare questa divisione meno 8 27 diviso un nono mi metto di lato meno 8 27 diviso un nono vuol dire scrivere meno 8 27 per 9 posso semplificare 9 con 27 quindi 9 diviso 9 fa 1 27 diviso 9 fa 3 ed ottenere meno 8 terzi a alla quarta b avendo fatto 6 meno 2 4 e 3 meno 2 1 meno apro la quadra e faccio questa divisione ed ottengo meno 4a alla terza b tutto quanto alla seconda diviso meno 4a alla seconda b ora meno 8 terzi a alla quarta b ora meno meno 8 terzi a alla quarta b devo sviluppare questa potenza meno apro la tonda meno alla seconda fa più e non scrivo nulla 4 alla seconda fa 16 a alla sesta b alla alla seconda diviso meno 4a alla seconda b diviso meno 4a alla seconda b ed ottengo meno 8 terzi a alla quarta b ed ora devo fare questa divisione quindi qui c'è un meno qui c'è un meno quindi meno per meno fa più il risultato sarà più 16 diviso 4 e 4 poi alla sesta diviso alla seconda 6 meno 2 fa 4 e poi b alla seconda diviso b fa b questi due monomi questi due monomi sono tra di loro simili e allora posso fare il minimo comune multiplo ed ottenere meno 8 più 12 a alla quarta b 12 meno 8 fa 4 terzi alla seconda b e questo è il risultato di questa espressione con questo ultimo esercizio termino questo tutorial sulla divisione tra monomi